Il nostro impegno è il raddoppio dell'aeroporto di Fiumicino, lo ha dichiarato oggi Renata Polverini, presidente dell'Aggiunta regionale del Lazio, a margine della presentazione dei nuovi collegamenti aerei diretti tra Roma, Pechino e Shanghai, tutti insieme, compreso il governo, ha detto Polverini, dobbiamo impegnarci per il raddoppio di Fiumicino. Nessuno è contrario al raddoppio, commenta Francesco Scalia, consigliere regionale del PD. La Regione Lazio però deve capire che è necessario anche l'aeroporto di Frosinone per evitare il congestionamento del traffico aereo che non può avere Roma come unico punto di riferimento.